I'm the realest one that's rapping, oh my god, oh my god, if I, I, I'm a lead, and when they lay me down the rap, I know I was always rap Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dal vostro Dark Chaos 92 Oggi siamo qui per una reaction davvero assurda sui musical.ly sexy Ok, questo video è fatto con molta ironia, quindi mi raccomando nei commenti non insultate e robe del genere Ma non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo direttamente al video Questa è già buona, buona buona E sì, è molto buona Vediamo un po' Tetta è già culo Ha il filo, il filo interde... Ma io... ma io dico, ma queste ragazze... ma perché devono usare queste cose così? Cioè, ci sono molte altre cose più carine, più belle, no? Proprio... il filo, vabbè, vabbè, il filo Ecco, tutte, tutte, proprio così, tutte, tutte Perché... perché è giusto mettersi reggiseno e ballare Ma dove siamo finiti? Dove siamo finiti? Questo devono dare al giorno d'oggi Intervallo mamma che mi dà la buonanotte Ma dettagli, continuiamo? Eh... Un cazzato è questo Eh... Eh... Da do... Eh... Eh... Eh, questa è carina Ma... Che culetto Continuiamo Che poi alla fine non è che ha mutandine Sembrano tipo quelle della nanna Però va bene Chiama di cellulite Ma proprio assurda Intendo quella alla mia sinistra Non quella a destra E il bello è che Prova lei a tirarselo Vabbè La gioventù proprio bruciata Ecco queste cose devono dare a queste donne Queste ragazze di oggi Ormai una storia seria non si può avere Perché ci sono Queste ragazzine che fanno queste cose Vabbè dettagli 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 Scusatemi Oh vedi questa qua Balla bene Nella mini Come c'è nel Lamborghini E da me E si rimane a me Questa mi sembra C'è la presente tipo L'avete presente La scopa C'è Quella proprio dritta Ora scopa Non pensate male Quella dritta Che non si muove Fa solo due movimenti E basta Ecco Però ovviamente Regisena e mutandine Perché è così no? Eh sì ovvio Eh certo Certo Mmm Eh Questa è carina Eh Ma E dove stanno le mutandine? No Regà Rivediamo Scusate No Dove stanno? Regà Non ha le mutandine O so stupido io Dove sono? Ah Si vedono Ok Si vedono Io tipo Che cazzo Vabbè Oh Ma Micchia zia Arrivo Ti vi dove Ma 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 è possibile Una roba del genere? Guarda questa Questa è bella Regà Eh E altro che Tetta e cia culo Eh Scusatemi Oh mio dio Quando vedo queste cose Veramente Mi sale proprio Il Dark Attendo a quello che dici Perché poi Eh Il peggio insolto Ti piglio Sì no no Scusa scusa Mi sale proprio L'adrenalina assurda Ecco Mi raccomando Non offendete C'è tutto ironico Ironia Intrattenimento Capito Eh Intrattenimento E che intrattenimento Salve Eh E certo Tutto attitudine No No E chi se la mi Eh Cioè Dai Non diciamo Queste cose Davanti al pubblico Di piccoli Piccoli ragazzini Eh Te la mini Che è ste cose Meno che sia un inglese Io non so che sia Vabbè Dettaglio Pocchini Eh Da me Insinima Da me Adesso non sei Una bambina eh Dai Ma è una bambina La faccio da una bambina però Vabbè Sembra una bambina Dai Questa è più carina Molto più grande Secondo me Mamma mia Questa qua Ma che stanno a parlare C'è una Lamborghini Che cacchio ho visto Che culo Minchia Perché non li faccio sempre Questi Che cosa ho visto Che co Buono Qua ci vuole un attacca a esse Il livello di combattimento È salito a 7000 8000 Ma è incredibile Nettamente Inca pure a rallenti Raga Mamma mia Da che stiamo a parlare Una bambina E poi si stringono Il bello è che si stringono C'è Regà Guardate Una roba assurda Non è che fai così Fai così Veste buona Buona Conosciamoci Zia Conosciamoci Zia Il mio numero è 3-8 No Eh Vuolevi Che cacchio è Dick spastici Questa Tu Non Maggiare Nel Lamborghini Oh Questa è bellissima Come ragazza Io Io ragazzi Spero che non siano Queste ragazze Non siano minorenni Io lo spero Perché se sono minorenni Veramente Se scopro che sono minorenni Rimuovo il video io stesso Perché c'è Dai Alla fine Però vabbè Alla fine è una reaction Quindi ci sta Dai Mamma mia È bellissima Questa Raga No No Non le faccio Queste così Questa è Incazzata Nera Però è buona No Non si fanno Queste cose Ma Ma questo chi è Ma io non voglio Vederti Ma qual è il problema Tu hai Un pugno In faccia Oh Già ci siamo Qua Ci siamo No Sì Lamborghini È Da me Insima Da me Ma questa È tipo Tutta elettrica Eh scusa Buona Questa Ma questa Ma questa Non l'avevamo Già vista Però è sempre Buona lo stesso Cioè alla fine Tranquilli Mamma mia Mamma mia Ma tutti questi Fiori Che sbocciano Guarda questa Mamma mia Cioè ma Ma Veramente Si può Guardatela Bellissima Bellissima Stupenda Proprio Stupenda Oh Guardate Guardate Questa Mamma mia Rega Ma C'è Veramente Oh No Questa L'ultima Questa la Vediamo Rega Veramente io non so che dire Un video Alquanto bellissimo Donne e ragazze Di tutti i tipi bellissime A parte qualcuno e quel maschio Che non doveva essere nel video Però va bene i dettagli lo lasciamo solo per le ragazzine Che andranno a guardare il video Vabbè dai un maschetto Dentro lo infiliamo Però infiliamo non in quel senso Tralasciando quello ragazzi vi invito a iscrivervi al canale E attivare la campanella per non perdervi I prossimi video Vi ricordo sempre che Una piccola condivisione non fa male a nessuno Il like come sempre è gratuito Non si paga Un bacione in mezzo al vostro Darkhouse92 E scrivetemi nei commenti secondo voi Quale vi è piaciuta di più di queste Mi raccomando Così anche da avere Cioè nel senso per sapere Se appunto quella che piace a voi Piace a me Per esempio questa qui è molto carina Questa qua a me piace Quindi fatemi sapere se a voi piace Al massimo nei commenti Mi iscrivete tipo Numero dalla 1 Fino a questo qua Quale vi è piaciuto di più Mi iscrivete il numero Con Chi vi è piaciuto Mi raccomando Iscrivetevi al canale A teatro della campanella Un bacione in mezzo Da posto dal customata 2 E noi ci vediamo prossimamente Con nuovi video E nuove live Bella raga Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie per la visione!